musica ecco come preparare le cozze dopo aver accuratamente pulito le cozze aprirle senza separare il frutto dal guscio in una ciotola mettere le uova il pangrattato e il pecorino romano mescolare il tutto mettere l'impasto nelle cozze aiutandosi con un cucchiaino musica 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 ecco come preparare il sugo in un tegame mettere uno spicchio di aglio intero l'olio di oliva quanto basta e il prezzemolo a pezzi lasciar soffriggere per qualche minuto aggiungere il pomodoro pelato frullato un bicchiere d'acqua e qualche cozza senza guscio lasciar cucinare a fuoco moderato appena il sugo si addensa togliere l'aglio e mettere le cozze precedentemente preparate lasciar cucinare per altri 30 minuti circa musica 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 Grazie a tutti.